A rientro in aula lunedì gli alunni delle elementari e medie di via San Francesco e Cappuccina a Domodossola troveranno nuove scuole. I cantieri avviati inizio estate stanno per essere smantellati regolando così nuove più moderne strutture scolastiche alla città. Non tutto il lavoro è stato però completato, non tutti i ponteggi potranno essere smantellati entro il 10 settembre. I tecnici assicurano che gli ultimi interventi non intaccheranno la funzionalità delle strutture scolastiche. La Dremar di Borgo Manero ditta che se aggiudicate lavori in poco più di 90 giorni ha eseguito le opere inerenti l'efficientamento energetico degli stabili, quindi cappotto esterno e nuovi infissi. Non sfugge all'occhio dei passanti come entrambi gli edifici si presentino ora con una nuova veste a cominciare dalla tinteggiatura degli esterni. Reimbalza infatti gli insegni a colori delle scuole Kennedy. A questi interventi si sommano anche quelli di rifacimento degli impianti con adeguamento alle normative, rifacimento dei bagni in alcuni casi e della pavimentazione della palestra in altro. Costo delle opere poco meno di un milione di euro per ogni scuola, 800 mila sono arrivati dai finanziamenti regionali del piano La Buona Scuola, 150 mila quelli del comune che ha reperito dal fondo frontalieri per ciascun istituto scolastico. Opere che aggiungono un tassello importante al piano di riqualificazione degli edifici scolastici domesi. Progetto partito negli anni scorsi quando sotto la guida della giunta Catrini era stato ammodernato l'edificio di via Ceretti. Nel 2017 l'amministrazione Pizzi è intervenuta sulle scuole materne della città. All'appello mancano le scuole di via Rosmini. L'esecutivo attuale attende lo sblocco di una nuova tranche di investimenti del piano La Buona Scuola per intervenire proprio sulla scuola primaria Milani.